Una delle esperienze più terrificanti che possano capitare a un essere umano è vivere in un condominio. E in effetti è un'esperienza quindi che abbiamo fatto in tanti, forse la maggior parte di noi. Di questo oggi vorrei parlare, in realtà parlando di un romanzo molto spaventoso che è L'inquilino del terzo piano, di Roland Topor, scrittore di origini polacche, nato a Parigi e morto prematuramente negli anni 90 a neanche 60 anni. Allora, è un romanzo uscito nel 64 da cui nel 76, quindi appena 12 anni dopo, Roman Polanski trasse un film altrettanto ambiguo e molto molto onirico, che aveva lo stesso titolo, L'inquilino del terzo piano. In realtà questo libro uscì con un altro titolo negli anni 60 in Italia, con il titolo dell'inquilino stregato, ma questo qua ci sembra più centrato e questa è una riedizione abbastanza recente fatta da Bombiani. Adesso cerco di raccontarvi un po' il perché questo libro è molto bello ed è uno di quei romanzi che almeno una volta nella vita vanno letti. Prima però vi rinnovo l'invito a iscrivervi a questo canale, Francesco Franceschini, il nome ridondante, spero vi attragga, non è un nome d'arte, mi chiamo proprio così. E quindi, vabbè, magari il caso di così andare a sentire i miei genitori, se volete, perché han pensato bene di farmi questo scherzo molto polanschiano anche, se volete, molto toporiano in fondo. Nome surreale, come surreale era topor che ha creato anche molti movimenti neosurrealisti sperimentali negli anni 50 e 60, insieme per esempio a Alejandro Jodorowsky, un altro di quei personaggi strambi del ventesimo secolo, ma pieni di attrattiva perché capaci di produrre e di sperimentare una cultura alternativa rispetto a quella dominante. Ecco, allora, perché questo libro è un libro di quelli davvero preziosi? Beh, anzitutto perché è un libro horror senza che ci siano fantasmi, case stregate, vampiri, serial killer dietro ogni angolo di strada. E questo già la dice lunga sulla genialità dell'autore. Si racconta l'alienazione, il fatto di vivere in un condominio che diventa, per l'appunto, sinonimo anche di spavento, di orrore, di paura degli altri. L'unica intercapedine che esiste fra noi e gli altri è la nostra porta di casa, ma gli altri sono i nemici. E poi c'è un altro tema forte che è quello del silenzio, il silenzio che nel ventesimo secolo non è più considerato un valore, ma è qualcosa di del tutto superfluo. E quindi c'è chi di questo silenzio, di questa superfluità del silenzio abusa, facendo casino a tutte le ore del giorno, e c'è chi invece il silenzio lo insegue continuamente, si mette le pantofole, le pattine per non far rumore, camminando in casa, ma nello stesso tempo teme però di urtare gli altri, anche semplicemente respirando o sussurrando. È una storia d'amore anche molto malata, molto malvagia, che si ritrae su se stessa, che si aggroviglia un po' sulla sua stessa passione e diventa appunto occasione di delirio. Un film, quello di Polanski, che ha reso molto bene le atmosfere terribili del romanzo, ma il romanzo va letto prima di aver visto il film. Se non l'avete ancora visto, il film è prima passate dal romanzo, che è anche un romanzo che racconta tutto quello che di terrificante può essere l'altro, tutto il pericolo che c'è o lo spavento che c'è o la minaccia che può esserci nella normalità di un padrone di casa, di un affittuario, di un vicino, di qualcuno che addirittura per sfregio nei confronti degli altri condomini fa i bisogni sulle porte di casa, davanti a tutti gli usci. Succede anche questo in questo romanzo. Ci sono avventure erotiche, ci sono feste che vengono date in un appartamento e poi però a chi ha organizzato queste feste, praticamente questo festeggiamento viene rivolto contro da tutti gli altri abitanti di questo palazzo e poi c'è anche una vita esteriore che ricorda un po' anche in questo caso l'alienazione professionale. Si va al lavoro senza saper bene che cosa accadrà e si torna a casa con la paura di tornarci, quando il proprio appartamento diventa ostile, quando tornare a casa è pauroso, quando tornare a casa diventa un'azione pazzesca, un'azione che vorremmo ritardare il più tardi possibile, quindi indugiamo nei bar, indugiamo per le vie della città ormai deserte a luna di notte per non tornare a casa e questa è una delle sensazioni più spiacevoli che possono esistere e che purtroppo si prova ancora oggi quando appunto viviamo in case non adatte alla nostra anima. Ne ho parlato anche in un altro video nel mio canale Il Vizio delle Fumette dedicato a un personaggio appunto dei comics che si chiama Dago e che magari se volete e vi fa piacere vedere vi linko in descrizione. Questo è l'inquilino del terzo piano di un geniale scrittore, sceneggiatore, fumettista anche lui, autore di cinema, ha partecipato anche a un film italiano di Maurizio Nichetti che si chiama Ratataplan, film degli anni settanta, fini anni settanta e quindi potete vederlo anche in quel film nelle vesti di attore. Ma lui è stato davvero un personaggio della controcultura che ha partorito uno dei romanzi più belli e più sinistri del ventesimo secolo, l'inquilino del terzo piano. Vi ringrazio, iscrivetevi a questo canale e diffondete se vi va questo video in modo che possiamo crescere anche come numero di iscritti.